Davvero un anno devastante per il settore della moda in particolare, ma per tutte le attività, soprattutto manifatturiere della nostra provincia anche. Quello della moda è un settore che da troppi anni era in crisi e il 2020 non è stato un anno orribilis, ma è stato un anno completamente da cancellare. Considerate che su 12 mesi effettivamente si è lavorato un mese e mezzo e nella moda in cui le stagioni si anticipano di quasi un anno è addirittura a rischio anche la situazione dell'autunno-inverno 2021-2022. Perché tra le chiusure dei negozi, tra le mancate situazioni della primavera-estate del 2020 e dell'autunno-inverno 2020-2021 le aziende dopo un anno di praticamente lockdown totale a livello economico sono davvero in grandissima difficoltà con un calo medio di oltre il 37%, quasi il 40%, ma con punte molto importanti in tantissime aziende di un calo di fatturato che va oltre il 50%. Quindi situazione davvero molto difficile che ha fatto sì anche che da un soldaggio nazionale riportato dalla CNA e quindi anche fatto su dati di ogni tipo di provincia, anche la nostra di Pesio Urbino, se continua così, se non ci saranno dei ristori a fondo perduto, non ci saranno ammortizzatori sociali per le maestranze delle nostre aziende, un'azienda su quattro ha paura di chiudere. In tutta questa situazione bisogna poi rilevare il blocco totale praticamente dell'export, in questo momento vola un aereo su quattro rispetto agli anni precedenti, non ci sono più fiere internazionali, non ci sono più sfilate per quello che riguarda la moda di alto livello nel mondo e quindi c'è l'impossibilità completa di fare internazionalizzazione, soprattutto il mondo della moda per il made in Italy, era famoso per quello che sapevamo esportare all'estero e questo blocco ovviamente ci preoccupa tantissimo. Abbiamo assolutamente necessità di ripartire, di vedere la luce in fondo al tunnel che probabilmente soltanto una vaccinazione di massa ci potrà in questo momento dare. Quindi rispetto a questo il settore della moda, il comparto del tessi e l'abbigliamento in generale è davvero in pericolo, ma soprattutto rischiamo di perdere un'intera filiera che è stata storicamente nel nostro territorio una colonna portante dell'economia.